Ritorna ragazzi la nostra bellissima pixemon, la vostra serie preferita pokemon su minecraft ragazzi eccola qua e partiamo molto bene direi perchè potrei fare i saluti dell'hashtag minecraft ita ma non è ancora il momento ragazzi prima dobbiamo sconfiggere questo alakazam boss leggendario che tanti di voi ragazzi vorrebbero che io disintegrassi ma probabilmente disintegrerà lui noi ma comunque ragazzi benvenuti e bentornati a parte dei scherzi in questo nuovo video salutiamo dented emma e unicorn bibi che hanno commentato lo scorso video con l'hashtag minecraft ita E oggi ragazzi torna la vostra serie pixemon preferita torna il vostro demarche nazionale con dark ray che è super efficace con shadow ball e ragazzi in questo nuovo episodio abbiamo un'infinità di cosa fare anzitutto lakazam non ci ha mai attaccato ragazzi quindi ne abbiamo fatto solo mosse super efficaci e ci prendiamo finalmente lakazita ragazzi che è una di quelle mega pietre che non abbiamo mai e poi mai raccolto ma ragazzi benvenuti Allora partiamo l'episodio facendo notare una cosa molto importante per me perché mi avete fatto notare ho detto ragazzi avete ragione da nazione a voi che siete più intelligenti del buon demarche Allora mi avete fatto notare che io durante tutta la scorsa battaglia dicevo che non avevo mosse di tipo lotta per sfidare all'archeus durante la battaglia del groton shadow Ma mi avete fatto notare che c'è focus blast che toglie 120 a praticamente una precisione 70% che ha 5 utilizzi e che io non ho mai notato sul mio dark ray ragazzi Ora fate bene ad insultarmi no scherzo allora però per iniziare signor Mari psilei dalle scatole abbiamo un nuovo disegno ragazzi dei campioncini di oggi e di quello di Gaspare Che ha creato un Among Us Charizard cioè ragazzi Gaspare è un genio voglio che nei commenti scriviate Gaspare sei un genio perché ragazzi uno che mi fa Among Us Ma con le ali di Charizard Shiny a me fa impazzire ragazzi cioè sta roba qua è geniale fate dei lavori che sono veramente clamorosi quindi Gaspare grazie di cuore Continuate a mandare i disegni ragazzi che li sto accumulando e piano piano ogni giorno ne mettiamo uno è molto molto importante come cosa Comunque 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 cosa dobbiamo fare nell'episodio di oggi ragazzi innanzitutto cambiare la nostra squadra Pokémon perché voglio rimettere il mio Charizard Salvare nel box 5 la squadra quella ufficiale che per ora stiamo utilizzando durante le battaglie tranne il Greninja che ci era servita nella scorsa E rimettiamoci la squadra che ci sta servendo per appunto sfidare Ash perché almeno la li vediamo un pochino e in più lo curiamo Tanto abbiamo Gengar e Dragonite che sono completamente KO Comunque abbiamo tantissime XP Candy ne ho farmato un pochino in questi giorni E volevo craftarmi in compagnia vostra ragazzi un po' di ball dato che ho messo l'altro giorno a craftare praticamente all'interno delle mechanical anvil Tutti quanti questi dischi di ultra ball un sacco di bottoni ragazzi ho anche l'inventario stracolmo di oggetti quindi possiamo Ah no qua non si aprono le casse dannazione allora mettiamo via tutto quanto qua direttamente mettiamo via le pozzine un attimino Perché voglio craftarmi un bel po' di ball mi servirebbero perché abbiamo sì uno stack di ultra ball ma vorrei stare più tranquillo per i prossimi episodi Quindi queste qualità siamo tutti quanti in bottoni e facciamo 22 ultra ball che comunque ragazzi non sono per niente male Un bel po' di timer ball che mi avete detto che sono molto molto utili quindi io vi ascolto più che volentieri e da qualche parte Dovrei avere anche delle dusk ball quindi ci craftiamo anche delle bellissime dusk ball e ne abbiamo anche un bel po' Sappiamo che sono delle ball molto 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 rotte poi gli ultimi pulsanti li utilizziamo per la timer ball e così stiamo un po' più tranquilli Dovrei fare in realtà uno smistamento casse qua in giro che magari è un po' più efficiente anche per le ball Ora sono molto piu' è spawnato un volcanion da qualche parte Ma io volcanion dovrei averlo già catturato però scusate io ce l'ho già un volcanion È al 70 e ha 3 di vita quindi in realtà non è che dovrei impazzire per aver trovato un volcanion Però quasi quasi lo sfido perché magari può dropparmi se non leggendario potrebbe magari dropparmi una masterbo o qualcosa Allora le planes dovrebbero essere qua in zona Quindi a sto punto prima di andare a fare le cose che dobbiamo fare oggi che ancora non vi ho spoilerato Dobbiamo cercare questo dannatissimo volcanion che eccolo là Uh eccolo Dicevo di trovare innanzitutto questo volcanion e spiegarvi quanto diamine è piccolo un pokemon leggendario Ma è minuscolo ragazzi lo catturerei solo perché è pigmeo però non ho voglia Oh calmati 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 Allora Charizard sfidalo fatti valere siete allo stesso diamine di livello Però non ho mosse interessanti su questo Charizard da fare contro questo volcanion Lui potrebbe avere delle mosse di tipo acqua però non le sta utilizzando e infatti ora lo potremmo shottare Bravo Charizard mi piace quando livelli in questo modo tutti quanti altri pokemon Non c'è troppato niente né XP Candy né Masterbone nulla Ma che delusione questo volcanion Allora dicevo nell'episodio di oggi ragazzi dobbiamo andare innanzitutto in avance scoperta E cercare di capire se appunto il grado nell'isola Shadow può veramente comunicare con noi A questo punto intanto io livello un pochino il mio Charizard Perché almeno lo portiamo sempre più in alto e io direi che lo portiamo almeno a livello No ragazzi si è buggato tutto Allora vuoi imparare? Ok portiamolo direttamente fino a livello 75 Siamo belli che tranquilli quanto sei bello quanto sarà al 100 ragazzi Avremo un Charizard shiny che può andare fino a livello 100 Che può anche mega evolversi sarà una figata atomica Poi abbiamo da potenziare un po' di pokemon Controlliamoli abbiamo Lucario a livello 48 Nii Silphacet che è a livello 60 Dracovish al 50 E Dragonite invece a 65 Allora sicuramente ragazzi Dracovish e Lucario sono assolutamente a migliorare Rafflet te ne puoi andare a fare delle scatole che ti disintegrerei E quindi a questo punto darei un po' di XP Candy XL sicuramente Lucario Che può imparare Dragon Pulse Al posto di Metal Club potrebbe essere una mossa molto interessante Fino a che livello lo stiamo portando? Fino al 60 Extreme Speed Al posto di cosa io lo faccio a imparare ragazzi Al posto di Force Palm Dai almeno da un po' più di mosse E poi abbiamo Close Combat Che potrei togliere our sphere ragazzi Tanta roba Molto forte questo Lucario a 61 Che può anche mega evolversi Poi abbiamo anche Dracovish ragazzi Che ha un pokemon molto interessante Da poter livellare Vediamo quanto lo possiamo portare avanti Crunch Al posto di cosa lo togliamo? Crunch Togliamo di Brutaswing ragazzi Che ha 5 mosse in meno Rispetto che a Byte E ora è a livello fino al 61 Se non mi sbaglio Lo abbiamo portato fino al 60 60 60 61 Gengar al 75 Dragonite al 65 Io potenzerei anche la cosa Stanno combinando Quelli volano ragazzi Ma cosa sta succedendo all'interno della Pixel In questi giorni ragazzi? Dicevo Potrei livellare anche Pikachu ragazzi Ma è l'ennesimo Pikachu Quello che abbiamo noi Che non si può livellare Che non può cambiare mosse Che non possiamo farli assolutamente nulla Questo dannatissimo Pikachu Quindi non possiamo far più di tanto Ragazzi Io lo livellerei Però guardate che mosse ha Ha agilità Ha solamente Spark Come mossa utile Quindi qua noi non possiamo far nulla E ancora Questo mistero di Pikachu È risolto sul fatto che non possa Imparare delle mosse Non ci possiamo fare assolutamente nulla Però per oggi voglio andare un po' in giro Con la mia squadra di Ash Perché appunto Voglio utilizzarla Per poterla livellare In un modo un po' più legit Quindi tagliamoci via Queste caramelle rare E XP Candy E mettiamo via anche L'Anulizer E il Solarizer Che tanto non abbiamo con noi Il Necrozma oggi Allora Direi Andiamo Al piano di sopra Vediamo se nell'isola di Groton Ragazzi C'è stato qua il cambiamento Dopo che l'abbiamo sconfitto Perché come notate ragazzi Vi ricordate Che nell'episodio Quando abbiamo sconfitto Rayquaza Shadow Ragazzi Praticamente la costruzione Del Pokémon Se cambiò Tornando direttamente Il Pokémon Che conoscevamo Quindi Rayquaza Nella versione normale Non più Shadow Vi ricordate di questa cosa Ragazzi In questo caso Il Groton È ancora Nella sua versione Shadow La costruzione che c'è sotto Quindi Mi viene da pensare Che in realtà Le tasche che avevamo da fare Su quest'isola Non sono ancora finite Il che Penso A sto punto Ci manca Soltanto Come ci aveva detto Il Ranger Ultra Dimensione Là sotto Parlare Con lui ragazzi Che adesso non si vede Ora si Con il Groton Nella sua versione Shadow Sono molto curioso ragazzi Perché come diamine Faccio a parlare Con un Pokémon Groton Ma Allora O devo premere la base Uh Fermi Ho letto Ultra Dimensione Groton Shadow Per ogni isola Comparirà Una sua parte oscura Poi Arriverà Una nuova dimensione L'Ultra Dimensione Ragazzi Questo vuol dire Che in realtà Le isole Queste qua Shadow Non stanno Spawnando Nei punti cardinali Tipo Abbiamo Nord Poi Sud Come quella Che ancora non è spawnata Poi abbiamo trovato Direi Quasa Ad Ovest E l'isola Shiny Ad Est Ma in realtà Per ogni isola Per ogni isola Di youtuber Ci sarà Un'isola Di un Pokémon Shadow Segreto Wow Ok Ok Che figata Cavolo Ok Molto Interessante Ok Ma io sono Bello carico ragazzi Sapete Questa cosa qua Non me l'aspettavo Ecco perché Il Ranger Dimensionale Ci aveva detto Che dovevamo parlare Col Groton Molto 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 Bello Allora Facciamo una cosa Già che ci siamo Esploriamo un po' Tutto quanto Adato che oggi Abbiamo già fatto Un po' di battaglie Con i Pokémon Tra la Kazam Che era un boss Ultimate Tra Volcanion Che era un boss Leggendario Cerchiamo di muoverci Un pochino in giro E capire Se c'è stata Qualche altra cosa Che Pokémon è questo Oricorio Bello Carino Basta che non mi dispone Davanti agli occhi Allora Facciamo che andiamo Anche a vedere Se c'è stata Qualche modifica Nella zona Del Del Necrozma Ma mi vedo Ma io vedo In realtà che i Beacon Sono qua L'altra volta ragazzi Quindi mi pare Molto strano No È cambiata invece Ragazzi C'è Ultra Necrozma Shadow Ho letto bene Boss Ultimate È sfidabile Ragazzi è sfidabile Questo Necrozma Oh Oh Che cavolo Mi significa Che è sfidabile Proviamo Ok calma Vuol dire che Noi in realtà Ragazzi Dobbiamo rimettere La nostra squadra vera Di Pokémon Perché questo Ultra Necrozma È sfidabile Scusate Prendiamoci anche Quindi Mewtwo E Dragonite A questo punto Ci mettiamo in squadra Che potrebbe essere utile In questo momento In battaglia Che è Quello livello 100 Che abbiamo noi Sono tutti quanti Messi bene a livello di vita Sì perché L'abbiamo curati poco fa Quindi dovrebbe essere a posto Ma che figata Allora 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 Io lo sfido Ragazzi Questo Perché se possiamo sfidarlo Sono super curioso Non c'è scritto niente Però Però Ragazzi Questa qua potrebbe essere Una battaglia assurda Perché per la prima volta Stiamo sfidando Necrozma Sul Galeo Shadow Wow Che bomba Cioè Oggi Un sacco di informazioni Veramente clamorose Comunque Nella serie Perché abbiamo parlato Con Groudon Shadow Che ci ha detto Ma ci ha tirato Una batossa atomica Questo Necrozma Ragazzi Ma che batossa Ci sta tirando Ok Allora Si sta ricaricando la vita Anche molto ben Dicevo Quindi Ci saranno un sacco Di isole in più Di tipo Shadow Questo si sta ricaricando La vita Dannazione I loro pokemon Che le loro mosse Dai ragazzi Però non potete ricaricarvi La vita ogni seconda Dai vabbè Allora stiamo qua Un'ora e mezza Ho capito Ho capito Non voglio cambiare pokemon Perché Eternato Si ha già bassissimo di vita Però lui si continua A ricaricare ogni secondo Va bene Allora Sai cosa ti dico Non ho No Ho lasciato a casa le cure No No ragazzi Sono un genio Cioè io sono veramente Programmato proprio male Ho lasciato a casa le cure Non posso avvelenare necrozma Non posso avvelenarlo Non posso avvelenarlo Ma lui si può ricaricare La vita per il resto Di suoi giorni Va bene Io non so Non posso dire nulla Allora facciamo una cosa Ragazzi D'altro che questo necrozma Qua continua a dare Molto 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 fastidio Andiamo a vederci Che cosa soffre Che mosse potremmo fargli Appunto Per fargli un sacco di danno Allora Lui soffre In questo caso Nella versione che è È psicoacciaio Quindi soffrirebbe le mosse Tipo buio Con l'altro spettro E fuoco Allora Noi tipo buio Possiamo andare di dark ray Così lo addormentiamo per bene Lì ci fa night slash Va bene Io ti faccio Mi ha shottato Raga mi ha shottato Mega volviamo subitissimo E vado di shadow bulk Tipo spettro Quindi andiamo di Mewtwo Y Contro Necrozma Solgaleo shadow Ragazzi È la prima volta Che lo sfidiamo Nella pixamo Ed è leggendaria Come roba L'abbiamo tolto No raga Lui è molto più forte Lui è fortissimo Allora Vado di fallplay Magari li togliamo Un po' più di danno Ma lui ci ha shottato Anche Mewtwo Cosa posso fare ragazzi Non posso far nulla È mostruosamente Un portento Dannazione Allora Però abbiamo dark pulse Quindi Oltrevolviamo Il nostro di necrozma Che non è shadow Fuori è anche arrivato Il diluvio ragazzi Guardate il cielo Che è completamente nero Non Quanto ci ha tolto No ragazzi Ci ha tolto un sacco Cioè ci ha shottato Anche necrozma Ma è potentissimo Allora Allora Lancia fiamme Lo shottiamo Va bene così Poi Marsciado Che squadra Pokémon ha Questo necrozma Ma ragazzi In che senso Marsciado Marsciado Andiamo a vedercelo Ancora assieme Tutti quanti Per imparare per bene Le varie mosse Di Pokémon Lotta spettro Quindi Folletto Psico spettro E volante Eeeh Qua non abbiamo niente Di tutto ciò ragazzi Abbiamo sludge bomb Ma no Non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Eeeh Pesante ragazzi E pesante Ecco È arrivato anche il tuono Tutto quanto ragazzi In questa serie Succede per un motivo Arriva il diluvio universale Con i tuoni Nell'esatto momento In cui noi Andiamo a sfidare Un Pokémon Di tipo Shadow Questa roba qua È assurda Soprattutto Necrozma Che era qua Che ci aspettava Da giorni Allora Provo ad andare di thunder Ragazzi Contro questo Marsciado Ma ragazzi Questa squadra qua È molto più forte La nostra Cioè io non so cosa dire Non so cosa aspettarmi Non lo riusciamo neanche a ghiacciare Eeeh È assurdo È assurdo Lui non ci sta attaccando Però molto molto bene Ora Io non devo parlare ragazzi Cosa? Eternatus Dynamax Fermi È tipo Drago Eh sì È tipo Drago Anche Drago È tipo Drago Quindi qua Facciamo la festa Entrambi ragazzi Qua prova il mezzino Le togliamo pochissimo Ragazzi Abbiamo perso Abbiamo perso questa battaglia Ecco Sì Grazie Quanti temporali Ma io non ho messo tutti i sitoni assieme Però eh Onestamente parlando Thunderwave Poi paralizzare No Ha fallito Thunderwave Abbiamo finito i Pokémon Ragazzi Abbiamo finito i Pokémon Sotto il diluvio universale Fuori è anche notte Va bene Molto 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 bene Io a questo punto Mi dirigo verso casa E dovrei andare a dormire Dove vado a dormire Nella vecchia casa di Kendall Vado a dormire Perché qua è un problema ragazzi Noi abbiamo perso Ah non ho più il letto qua Bene Anche questo è molto molto bene Guardate là chi c'è Noi Abbiamo appena finito Di sfidare Un Necrozma Solgaleo E là in fondo Compare un Solgaleo Bah io Devo dire qualcos'altro ragazzi Questo mondo qua Quando vi dico che ci parla Ci comunica Ci c'è qualcosa È perché davvero Succede ogni cosa In base a ogni minimo movimento Che faccio Ogni minima interazione Con il mondo E questa cosa qua È una figata atomica Tanto quanto è difficile In realtà E ve l'ho detto ragazzi C'era il temporale E appena ho dormito Si è tolto Io lo sfiderei anche Quel Solgaleo ragazzi Però non avrebbe senso Anche i nostri Pokémon Si sono curati Dopo che abbiamo dormito Ok che figata Sta cosa qua Non la sapevo che poteva succedere Eh potrebbe essere Un bel problema ragazzi Questa cosa qua Che abbiamo appena scoperto Perché Necrozma Là in fondo È veramente Un mostro incredibile Già Facciamo fatica A sconfiggere Ash Quindi a portare avanti La zona di bella faccia Cosa vuol dire ragazzi Che possiamo sfidare Un Ultra Necrozma Solgaleo Nella Pixelmon Shadow Soprattutto Non lo so Voi continuate con le teorie Qua sotto nei commenti Che scopriremo assieme Cosa ci succederà Da qui in avanti Noi campioncini E cari campioni Ci vediamo In un prossimo video Da Mark è tutto Iscrivetevi E attivate la campanellina Ciao ciao